Tesanovic, che partita è stata? Un'emozione bellissima! Sì, era una grande partita, completamente differente da questa che abbiamo fatto quattro giorni fa, ma più importante è questa che abbiamo vinto. Ora giochiamo in tre giorni e secondo me possiamo vincere. Una gara intensa, vi ha visto sotto di due gole per quasi tutta la partita, ma un grandissimo finale, dimostrazione che ci chiedevate dal primo all'ultimo minuto. Sì, 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 abbiamo fatto veramente una battaglia contro Pro Recco, era una partita non come altre, dove non erano tantissimi movimenti, ma secondo me siamo contenti e giochiamo in... Sabato che partita sarà? A sabato, non lo so, prima dobbiamo riposare un po', siamo veramente stanchi, ma daremo il nostro 100% sicuramente. Ok, grazie mille a te Dario. Una partita che vi ha visto in sofferenza, almeno per la prima parte. Fino a metà gara poi l'avete recuperata, l'avete ripersa sotto di due, ma ci avete creduto fino alla fine ed è venuta poi questa vittoria che vi porta alla bella. Questa squadra non mola mai, questo è nel nostro DNA. Giochiamo contro una signora formazione. Forse chi lo sa, quest'ora stavamo a festeggiare per gli episodi di Gara 1, però ce l'avevamo voglia perché di vincere qua in casa nostra con questo pubblico. Ora andremo a Recco, hanno già preparato la festa, quindi andremo a Recco e proviamo a rovinargliela. È la prima volta quest'anno in stagione che riuscite ad avere la meglio su Recco, cosa vuol dire e che fiducia vi dà? A noi ce l'abbiamo dall'inizio dell'anno la fiducia, poi ogni partita può prendere una piega sbagliata, prendere momenti, ma noi la nostra fiducia nella squadra ce l'abbiamo all'inizio dell'anno. Sappiamo quello che possiamo fare e se lo facciamo veramente con la cattiveria giusta possiamo dar fastidio a chiunque. Sabato sarà una partita veramente entusiasmante, almeno questo ci si augura, con che spirito ci arrivate. Quanta carica vi dà questa vittoria? Come l'ho detto prima, forse vogliamo festeggiare, quindi vogliamo andarci a prendere quello che sogniamo, perché comunque ricordiamo che giochiamo contro una grandissima formazione fatta di uomini che in qualsiasi momento possono trovare soluzioni. Quindi come ho detto prima, sicuramente stanno a preparare la festa a casa loro, noi andremo lì e proviamo a non fare affa. Grazie. Grazie.